cari amici di visione tv benvenuti a un nostro nuovo approfondimento è tornato con noi fabbio dragoni ciao fabbio giornalista della verità ciao a tutti fabbio abbiamo letto giorni fa una tua bella intervista federico rampini che anche se un giornalista di repubblica però è un uomo che ha sicuramente un'autonomia di pensiero ha detto delle cose in controtendenza rispetto al pensiero unico progressista ti ha stupito diciamo questa chiave di lettura di rampine che in un certo senso giustifica e capisce spiega il fallimento delle cosiddette sinistre fucsia sul piano globale sì esatto diciamo non è che mi ha particolarmente stupito perché diciamo tutto sommato mi aspettavo mi aspettavo alcune alcune considerazioni la cosa bella ogni volta che si intervista una persona penso che anche tu diciamo possa condividere quello che sto per dire è che ogni volta che hai parlato con una persona ti rimane sempre qualcosa e questo qualcosa ti aiuta a capire meglio la realtà non mi ha stupito diciamo il suo giudizio velenoso feroce su su biden anche perché essendo rampini una persona intellettualmente molto onesta e molto capace non avrebbe potuto sostenere il contrario quindi mi ha invece molto stupito una lettura che lui ha dato della crisi economica americana e questo essendo occupandomi io di economia sono rimasto oggettivamente un po' sorpreso ma nello stesso tempo non posso non condividere il giudizio che lui ha dato cioè lui sostanzialmente vede che la crisi americana è stata tutt'altro che una crisi alla fine perché di fatto sì è stata molto severa ma molto limitata e soprattutto la risposta che gli stati uniti hanno dato alla crisi è stata una risposta spropositata tanto che lui parla a un certo punto di una sorta di spregiudicatezza più che di biden dell'amministrazione biden cioè l'amministrazione biden una volta entrata in in carica sappiamo tutti come diciamo ha finto che gli stati uniti si trovassero ancora in crisi ed ha prorogato aumentato una misura di spesa pubblica e di sgravi fiscali senza precedenti quindi e questo è un tema secondo me significativo e quindi lui sostiene dice che tutti gli economisti che hanno parlato di crisi economica epocale dovrebbero in realtà cambiare mestiere perché è stata sì una crisi economica pesante ma straordinariamente passeggera per gli stati uniti sottolineo io per gli stati uniti perché quando veniamo all'europa il discorso è diverso non lo ha fatto non lo ha fatto rampini ma questo questo lo faccio io diciamo sostanzialmente quindi alla fine della fiera che cosa rimane rimane uno straordinaria operazione di stimolo fiscale ma nello stesso tempo anche una straordinario esperimento sociologico perché perché oggi gli stati uniti viaggiano veramente a pieni giri ma veramente a pieni giri e danno 10 milioni di persone in meno al lavoro rispetto al momento pre covid sebbene vi siano posizioni aperte tutto questo perché tutto questo perché gli stimoli che gli americani hanno avuto e vale a dire dollari sul conto corrente sono tali che hanno spinto molti americani a ritardare l'ingresso nel mondo del lavoro quindi in questo momento negli stati uniti c'è fame di lavoro da parte delle imprese ma i consumatori e i lavoratori non hanno tutta questa fretta ovviamente questa situazione finirà perché non hanno tutta questa fretta perché soldi da spendere ce ne hanno sanno che il lavoro quando decideranno di tornare a lavorare lo troveranno e quindi se la prendono comoda diciamo tutto questo avrà delle ricadute perché sicuramente i prezzi negli stati uniti aumenteranno ma la fortuna degli stati uniti è di non avere i tedeschi fra le palle scusate il termine il francesismo e quindi l'inflazione sono disposti a tollerarla anzi da bravi americani pragmatici sanno che quando ci si indebita l'inflazione serve anche e soprattutto al debitore e tutto sommato non fa grossi danni al creditore diciamo non lo fa guadagnare troppo diciamo ma non gli fa fare neanche ma non gli fa non gli determina grossi danni invece in europa siamo ottusi ottusamente ingabbiati nella retorica dell'inflazione e l'inflazione la più grande scemenza scempiaggine si sente dire l'inflazione è la tassa che colpisce le classi più povere non è vero nulla l'inflazione se del caso fa guadagnare di meno i renters quindi l'inflazione fa quello che secoli di marxismo non sono mai riusciti a fare e cioè promuovere l'ascensore sociale aiutare i più deboli a crescere e ad avere successo cioè l'inflazione mi sento di dire è uno straordinario carburante anzi è l'olio che consente al motore di non andare in frantumi ovviamente quando parlo di inflazione non parlo di iperinflazione perché l'iperinflazione è un'altra cosa quindi quando c'è l'inflazione il debitore onora meglio il proprio debito il creditore è vero che guadagna di meno ma non si trova di fronte ai default che troveremo noi invece a cui ci troveremo di fronte in europa proprio perché in europa abbiamo la fobia dell'inflazione fobia impostaci dai tedeschi sia chiaro perché se difendesse da noi questa fobia non ci sarebbe senti fabio tu dici gli stati uniti d'america non stanno risentendo affatto dal punto di vista economico di questa situazione in italia invece i poveri aumentano sono più di 5 milioni quelli in povertà assoluta qual è stata la differenza sostanziale che ha determinato in italia un aumento così esplosivo della povertà invece un contenimento dei danni in america allora guarda io mi rifarei ad una breve analisi storica senza andare troppo indietro nel tempo noi abbiamo conosciuto una vera crisi nel 2008 la grande crisi finanziaria quella è stata una crisi apparentemente meno appariscente rispetto alla crisi indotta dalle chiusure covid ma comunque sia comunque sia comunque sia è stata una crisi molto severa e molto lunga ok quindi questa è la 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 premessa cosa è successo nel 2008 quando è arrivata questa crisi che è stata una crisi finanziaria che poi è diventata una crisi economica cioè debitori che non erano in grado di pagare il proprio debito con tutto quello che ne ne consentiva in quel momento in quel momento l'eurozona aveva un'economia che era grosso modo quella degli stati uniti cioè nel 2008 l'eurozona aveva un'economia che era il 96 per cento circa rispetto a quella degli stati uniti quindi possiamo dire che l'eurozona e l'economia americana si equivalevano chiaro nel 2019 prima dello scoppio prima dello scoppio della pandemia a fine 2019 l'economia dell'eurozona era pari al 60 per cento rispetto a quella degli stati uniti quindi cosa è successo è successo in tutti questi anni che c'è stata una crisi ci sono state risposte alla crisi gli americani hanno risposto come si deve rispondere alle crisi l'europa anzi l'eurozona ha risposto alla sua maniera con l'austerità di conseguenza il risultato qual è è che l'eurozona oggi è praticamente la metà degli stati uniti e non stiamo parlando di quello che è successo dopo lo scoppio della pandemia quindi la lezione da trarre qual è che se il mondo lo equiparassimo ad una sorta di savana l'europa l'eurozona è un pinguino quindi il pinguino dentro la savana secondo voi che possibilità di sopravvivenza nessuno quindi diciamo il pinguino dentro la savana è l'eurozona e poi è successa la pandemia ecco in tutto questo l'italia è colei che soffre ancora di più quindi diciamo noi facciamo parte di questo branco di pinguini che sta dentro la savana che si credono di essere il centro del mondo perché qualcuno dice all'europa ha congegnato una risposta nuova e moderna alla crisi cioè giusto per darvi un'idea gli stati uniti hanno già speso tutto quello che hanno stanziato per far fronte al covid tutto hanno già speso tutto e hanno hanno stanziato il 16 17 per cento l'eurozona anzi in questo caso parliamo di unione europea l'unione europea ha stanziato una roba come il 4 per cento con il famoso recovery fund del suo pille e deve ancora cominciare a spenderlo cioè quindi si capisce già da sé che è una che è una puttanata immensa che non ci risolverà nulla tanto è vero che nel nostro pnrr il governo draghi ha scritto che il risultato finale di tutta questa palingenesi pianificatoria come direbbe tremonti così nella definita di un'intervista che ho avuto modo di fare con lui il risultato di tutto questo è che il nostro pil potenziale aumenterà dell'1,5 per cento nulla 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 il pil potenziale alla fine del 2026 sarà aumentato se sarà aumentato dell'1,5 per cento quindi il primo a non credere nel successo di questo recovery è proprio il governo che l'ha fatto perché se usa delle parole così altisonanti per descrivere il recovery poi però i risultati in termini di crescita prospettica sono nulli qualcuno dentro l'unione europea dice attenzione dice è scorretto paragonare il recovery next generation new insomma la risposta di bruxella quella degli stati uniti perché è scorretto è scorretto perché l'europa l'unione europea non è uno stato federale gli stati uniti sono uno stato federale e di conseguenza è scorretto paragonare i due i due casi anche perché dentro l'eurozona e dentro l'unione europea ci sono state risposte dei singoli stati quindi i conti vanno fatti per bene allora l'argomentazione non è priva di una sua logicità però gratta gratta non sta in piedi perché per due motivi primo perché anche sommando io l'ho fatto sono andato a vedermi l'osservatorio del fondo monetario internazionale e quindi diciamo un interlocutore che non può certo essere tacciato di sovranismo se noi sommiamo il next generation new che ancora deve partire a tutti gli aiuti a tutte diciamo le misure di stimolo fiscale approvate dagli stati dell'unione europea arriviamo al 10 per cento del pil rispetto al 16 17 degli stati uniti e già siamo quasi alla metà però qualcuno di voi potrebbe dire va bene il 10 per cento non è il 17 però sì però attenzione se seguiamo questa logica di nuovo i numeri non stanno in piedi perché perché gli aiuti fra virgolette del next generation new che ripeto ancora devono essere spesi in realtà hanno un impatto zero perché hanno un impatto zero perché se io conteggio come stimolo fiscale quello che l'italia o il portogallo riceveranno forse alla fine della fiera grazie al recovery io quella stessa cifra devo toglierla perché ci sono stati che quei soldi ce li mettono chiaro cioè il bilancio dell'unione europea perché il next generation new è un'articolazione del bilancio dell'unione europea funziona perché i soldi ci sono se qualcuno ce li mette è chiaro il concetto mentre invece negli stati uniti non è che lo stimolo fiscale dell'alabama l'ha pagato il texas semplicemente che hanno fatto la fed ha emesso i dollari ha stampato i dollari e è passata la paura quindi alla fine della fiera facendo in tutta questa conteggia alla fine della fiera noi dovremmo considerare zero perché di fatto è zero l'aiuto che l'unione europea ha dato primo perché non è stato ancora speso quindi è zero cioè voi capite che c'è il tempo non è un dettaglio perché se io sto morendo dissanguato e perdo e ho perso tre litri di sangue ricevere un litro ora o ricevere un litro in sei anni a dosi di 150 ml per volta non è esattamente la stessa cosa perché sicuramente io alla fine di sei anni non ci arrivo non so se è stato chiaro il concetto dopodiché se che quel sangue deve venire da qualcun altro cioè ci sarà qualcun altro che quel sangue l'ha dato quindi se io faccio il conto come piace a loro farlo in tutta l'europa alla fine l'europa non metterà nulla quindi possiamo dire che questo grande piano di resilienza come l'hanno chiamato che sembra una bernacchia pnrr è un blef assolutamente sì hai ragione hai ragione assolutamente sì è un'operazione di con cui l'unione europea un'operazione di pura propaganda con cui l'unione europea cerca di darsi un tono cioè ogni volta che succede qualcosa l'unione europea deve far capire che c'è e quindi deve far capire che serve a qualcosa e quindi si inventa con la complicità con la complicità di una classe dirigente che di questo campa si inventa ogni occasione per poter giustificare la sua presenza quindi sostanzialmente voglio dire chi non fa parte dell'unione europea cioè con tipo la svizzera non è non abbiano reagito alla alla pandemia cioè non hanno avuto bisogno di abbandonarsi agli agli schemi alle alle soluzioni arzigogolate di 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 questa novella bisanzio e il fatto che l'unione europea sia un pinguino dentro la savana lo si riscontra ogni qualvolta questo soggetto che non è una confederazione che non è uno stato federale però pretende di essere più invasivo di un governo federale basti vedere quello che sta succedendo in ungheria con l'unione europea con tutta la gazzarra ripugnante sulla storia del transgender lgb iq rs tv vz insomma tutta questa roba qui cioè allora fateci caso c'è il g7 ecco il g7 sono le prime sette economie del pianeta ecco ci c'è anche dentro l'unione europea dice ma che c'entra l'unione europea se c'entra l'unione europea perché perché i tre stati del g7 che fanno parte dell'eurozona che sono germania francia e italia hanno delegato una parte della loro politica commerciale all'unione europea e quindi siccome nel g7 si parla anche di commercio internazionale deve esserci anche l'unione europea va bene quindi già qui si capisce che è un po una roba cioè quindi abbiamo un tavolo dove c'è un soggetto che non sarebbe teoricamente invitato ma è invitato va bene non solo non basta perché il pinguino dentro la savana vuole essere accompagnato quindi non c'è un pinguino dentro la savana ma ce ne abbiamo due perché l'unione europea deve intervenire con il presidente charles michelle e con ursula von der leyen e talvolta succede ne siamo stati testimoni episodi di sincera e franca ilarità in cui qualcuno ipocritamente o stupidamente cerca di dare la colpa a erdogan che non è uno stinco di santo è un dittatore a tutti i difetti del mondo ma in quella storia non c'entra nulla succede che magari la ursula von der leyen non ha la sedia perché lei credeva che il suo cerimoniale glielo gestisse charles michelle invece charles michelle si gestiva il suo cerimoniale non gestiva il suo quindi cioè facciamo delle figure proprio meschine proprio proprio meschine in tutto il mondo e perché sono in due perché di nuovo questa costruzione barocca è talmente barocca che siccome al g7 si parla di sicurezza internazionale e allora la sicurezza comune è affidata al consiglio dell'unione europea presieduto da charles michelle mentre invece se si parla di commercio il commercio è appannaggio della commissione ue che è una cosa diversa dal consiglio europeo quindi già da qui si capisce che non ci si capisce nulla e allora deve essere presente la ursula von der leyen quindi abbiamo un g7 dove c'è un soggetto che sostanzialmente non c'entra nulla e che non solo è un intruso ma deve avere anche due serie occupate quindi è proprio la novella bisanzio dei tempi moderni ecco c'era era cresciuto tanto negli ultimi anni un movimento chiaramente anti europeista contro questa con contro questa europa burocratica miope come dici giustamente tu po grottesca e meschina questo movimento è riuscito ad esprimere anche un governo quello giallo verde che sembrava pronto per opporsi a questa burocrazia folle invece abbiamo visto draghi nell'ultimo intervento in parlamento dire ma avete visto come tutti i bambini sono tornati europeisti come spieghi tu diciamo questa svolta così rapida che ci ha portato dal 2018 esprimere un governo formalmente anti europeista alle parole di draghi che si vanta dire vabbè io li ho presi qua tutti i discoli e adesso li ho fatti diventare tutti bravi e amanti della democrazia europea ora draghi non è propriamente un simbolo dell'europeismo quindi insomma è quello che ha salvato l'euro così con whatever it takes se non è draghi il simbolo dell'europeismo io sono un simbolo dei capelli rasta no no ma su questo io su questo io ho un'opinione diversa in che senso cioè draghi non sto dicendo che draghi sia un sovranista sia chiaro però draghi non è l'espressione dell'europeismo come lo intendiamo noi oggi dopo di che essendo stato alla guida della banca centrale europea mi sembra evidente che il suo compito fosse anche quello di preservare la stabilità dell'eurozona però anche qui andrebbe fatta una riflessione molto molto più articolata cioè cosa ha fatto draghi sostanzialmente allora se noi guardiamo l'operato di draghi in qualità di banchiere centrale dovremmo dire che draghi è stato un totale fallimento perché il suo mandato si è contraddistinto per la assoluta incapacità di riportare l'inflazione al 2% quindi il primo giudizio teorico dovrebbe essere quello di dire draghi come uomo guida della banca centrale europea è stato un fallimento perché non è stato capace di centrare l'obiettivo dell'inflazione al 2% e non è un obiettivo secondario perché ritorno al punto di partenza l'inflazione è salute non sto parlando dell'iperinflazione ma sto parlando dell'inflazione quindi se c'è inflazione i debiti si pagano meglio se c'è inflazione il lavoro si trova meglio anzi l'inflazione è la spia del fatto che il lavoro si trova meglio ecco ecco perché diciamo quindi ecco cioè quindi l'inflazione è un po' il termometro del benessere e ripeto fino all'ennesima volta l'inflazione non va confusa con la iperinflazione quindi il primo appunto che uno potrebbe dire draghi è stato un fallimento eh in realtà eh quello che ha fatto draghi è una cosa molto diversa e qui eh è il classico caso del bicchiere mezzo pieno a mezzo ruoto allora eh draghi ha congegnato in realtà non è che se lo sia inventato perché diciamo manovre di politica economica non convenzionali che insi consistevano nell'acquisto di titoli di stato e eh per immettere liquidità dentro l'economia in realtà siccome voi sapete che la banca centrale dialoga con le banche quando la banca centrale immette denaro dentro l'economia in realtà la banca la centrale lo immette dentro le banche poi sta alle banche mettere in giro il denaro però ecco qui si arriva al primo punto che non poteva che decretare il fallimento il fallimento dell'operazione Draghi intesa come operazione volta a controllare l'inflazione al 2% ora il denaro nell'economia si può immettere in due modi o lo spende lo stato a deficit oppure le banche lo prestano in entrambi i casi il denaro arriva nelle tasche dei cittadini però mentre con il deficit arriva sotto forma di maggior reddito perché il deficit pubblico corrisponde al al deficit al reddito privato nel caso del debito contratto attraverso le banche non è propriamente la stessa cosa perché il debito deve essere istituito quindi è un po' come dire prendo 100 mila euro in più di stipendio nel 2022 oppure mi arrivano 100 mila euro in più sul conto corrente perché una banca verrà prestati non è propriamente la stessa cosa fatta questa questa premessa cosa ha fatto Draghi Draghi ha fatto sostanzialmente questo Draghi ha detto signori io devo occuparmi di riportare l'inflazione al 2% per far questo bisogna mettere denaro dentro l'economia e quindi il modo più elementare che ho è quello di acquistare titoli di stato nel far questo Draghi però diciamo ha congegnato quindi in questo senso per me Draghi è brutto cattivo perché con questa operazione ha preservato la stabilità dell'eurozona però non riesco a diciamo a fra virgolette dargli tutte le colpe del mondo anche perché il l'operazione lui come l'ha congegnata l'ha congegnata in maniera tale che domani la disgregazione dell'eurozona sarà più semplice perché perché i titoli di stato italiani chi se li ha comprati? La banca d'Italia. I titoli di stato francesi chi se li ha comprati? La banca di Francia. I titoli di stato olandesi chi se li ha comprati? La banca d'Olanda. Sostanzialmente. E quindi domani in un certo senso il divorzio sarà più semplice. Uno dice ma che Draghi ha fatto questo per rendere il divorzio più semplice? Probabilmente no, sicuramente no ma è un dato di fatto che l'operazione così come è stata congegnata renderà tutto più semplice. Però questa roba alla fine crollerà. Perché crollerà? Perché Draghi ha avuto il pregio, il difetto a seconda dei punti di vista di prendere in giro i tedeschi dicendoli guarda io siccome la mia missione è riportare l'inflazione al 2% devo fare questa roba qui. I tedeschi che hanno tanti difetti ma non hanno la della naso gli hanno detto no Draghi te ci stai dicendo che stai facendo questo per portare l'inflazione al 2% in realtà te stai facendo questo per aiutare l'Italia. Ne è nato un contenzioso enorme. Draghi si è dovuto sobbarcare vero e proprio tanto qui si può dire valanghe di merda purissima e distillata dai media tedeschi ed olandesi che ovviamente non vedono in Draghi il loro simbolo. tutt'altro. Loro vedono un italiano che ce l'ha fatta. Cioè loro vedono in Draghi un impostore. Cioè loro dicono Draghi si finge di essere un banchiere dell'establishment ma in realtà è un italiano come Francesco Toscano o come Fabio Dragoni anche se diciamo... Proprio uguale uguale no dai. Ovviamente no però per i tedeschi tu lo sai vanno poco per il sottile. Perché questa roba alla fine crolla Francesco? Crolla perché ora l'inflazione si ritorna al punto di partenza. Ora l'inflazione supererà abbondantemente il 2% e quindi i tedeschi ti diranno sì ok amici del sole fino ad ora ci avete raccontato la storia che compravate titoli di Stato italiani per far ripartire l'inflazione e non era vero nulla. Tant'è vero che noi siamo ricorsi ripetutamente a casa rue. Ora però la storia dell'inflazione non regge più perché l'inflazione è sopra il 2%. Quindi questi titoli non possono essere più acquistati. E allora infatti cosa sta facendo ora la BCE? Sta provando a cercare un modo la BCE per giustificare il fatto che si possano continuare a acquistare titoli di Stato. Dicendo sì no ma l'inflazione deve essere vista a lungo termine come fanno un'America. Però la verità qual è? È che bisognerà aspettare quello che accade in Germania a settembre quando vinceranno probabilmente i popolari tedeschi e i popolari tedeschi hanno già detto che loro vogliono tornare ai vecchi santi, alle vecchie regole e lo ha fatto capire anche Wolfgang Schöbel mandando un pizzino a Draghi. Quindi alla fine della fiera qual è il risultato di tutto questo? Che Draghi non è affatto un collante per l'Unione Europea. Draghi è un elemento fortemente divisivo ma non perché Draghi abbia a cuore le sorti nostre. Perché c'è una storia dietro che i tedeschi non la sopportano. Tanto è vero che non è un mistero che se era per la Germania e per le ingerenze della Germania noi avevamo ancora Conte. Invece ora abbiamo Draghi che non è il nostro eroe ma è nello stesso tempo una persona che i tedeschi detestano. Concludo dicendo se io dovessi scegliermi un alleato, che alleato mi sceglierei? Senza alcun dubbio i popolari tedeschi. Io voglio che i popolari tedeschi vincano e stravincano e io voglio che loro impongano la loro agenda perché la loro agenda è inconcepibile con la nostra. È solo così che si arriverà alla rottura dell'Eurozona. Senti Fabio ti faccio un'ultima domanda rispetto anche all'ansia pandemica, non ne abbiamo parlato per niente. Negli Stati Uniti sembra che ci siano dei governatori repubblicani del Texas, della Florida, che hanno chiaramente archiviato la stagione delle ansie e delle paure. Abbiamo visto in Ungheria 70.000 persone allo stadio, nella partita del Portogallo, tranquilli, sereni. Solo qui continuano a bombardare questa storia, evidentemente per risultati che loro conoscono e noi no. Perché continuano ad ossessionare la gente con queste paure? Ora c'è la Delta, la Delta Plus. Perché continuano proprio qui in Italia? L'obiettivo loro è quello di finire il lavoro, di strutturare quei reparti, quei tessuti economici che non ritengono funzionali. Vogliono aprire questa nuova stagione per forza tenendo in piedi questo clima di preoccupazione. È chiaro ormai, anche un idiota si rende conto che il virus è successo e c'è dappertutto. Non è che puoi andare allo Stato in Ungheria, ti puoi togliere la mascherina del Texas e qua no. Evidentemente qui c'è qualcuno che l'emergenza non la vuole mollare per ragioni che lui conosce. Quali sono secondo te queste ragioni? Allora, io parlerei di una differenza, diciamo, antropologica e di una spiegazione economica. Allora, è fuori discussione che molti di noi pensavano di essere di sinistra, molti di noi pensavano di essere di destra, molti di noi pensavano comunque di essere sovranisti, ma c'è una faglia di Sant'Andrea che divide in maniera netta chi è a favore della restrizione della libertà e chi è contro la restrizione della libertà. Quindi ci sono tanti pseudoliberali che si credevano essere liberali e invece fanno il tifo per l'obbligo della vaccinazione, che è ciò che di più illiterale esista, o per le chiusure a oltranza nel nome dell'emergenza sanitaria. C'è chi invece si riteneva essere di sinistra e invece si trova a suo agio nello sposare l'assenza di qualsiasi obbligo di vaccinazione e le più ampie aperture possibili. Negli Stati Uniti è un dato di fatto che i repubblicani sono a favore delle riaperture, i democratici no. Questo è un dato di fatto e lo si riscontra nelle politiche adottate a livello di ciascun singolo Stato. Però è un dato di fatto inequivocabile, almeno questo è un primo punto di vista. Poi c'è invece una spiegazione un po' più contingente, che è una provocazione, di cui mi sono fatto spesso portavoce, e ritorno al punto di partenza. Se l'inflazione riparte, i tedeschi avranno buon gioco a dire che è finita. E nel momento in cui i tedeschi diranno che è finita e la BCE non può più acquistare titoli di Stato, l'eurozona si disgrega, perché riparte la volatilità sui nostri titoli di Stato in particolare. E siccome il nostro debito è un debito grosso, questo determinerà un'implosione a livello planetario. Cioè, se è bastato il coro di Lehman Brothers a determinare un'esplosione economica a livello planetario, figuriamoci le tensioni e la volatilità sul debito italiano senza una banca centrale dietro. E' una roba che non si sostiene. Quindi delle due l'una o se ne vanno i tedeschi o noi crolliamo e con noi crolla tutta l'eurozona. Allora, in questo senso il lockdown prolungato in Italia ha un po' l'effetto della tachipirina. Cioè, il lockdown è la tachipirina dell'economia. Serve a raffreddare l'economia. Ovviamente è una roba che io disprezzo e da borro, però mi sembra proprio che sia così. Cioè, il lockdown serve a raffreddare l'economia in maniera tale da non far aumentare troppo i prezzi, perché se i prezzi aumentano succede che l'eurozona si disgrega. Perché l'eurozona ha un collante, la guerra all'inflazione. E quindi è evidente che nel momento in cui scoppia l'inflazione, tutta la costruzione dell'eurozona deve combattere quella roba lì. E nel combattere quella roba lì si ammazza. C'è poco da fare. Cioè, è così. Quindi, in un certo senso, il lockdown è una misura di politica economica. Cioè, è l'austerità che rientra dalla finestra dopo essere uscita dalla porta. Da un lato ci dicono che l'austerità non vale più per tutto il 2022, perché abbiamo attivato la clausola di salvaguardia generale. Però, nello stesso tempo, si tengono in lockdown, che è peggio dell'austerità. Quindi, sotto questo aspetto, il lockdown è una sorta di misura che tiene bassa la temperatura dell'economia, ammazzando le persone. Perché la paura qual è? E' la paura che se ripartono i prezzi, e ovviamente io sarei ben contento, perché se ripartono i prezzi, non che se ripartono i prezzi in sé, però se i prezzi ripartono, diciamo, vuol dire che l'economia riparte. Diciamo, così deve essere. Però, ecco, temo che sia una misura di politica economica. Ecco, possiamo quindi chiudere questa intervista con questa sintesi, Fabio? Dicendo che, in realtà, questo lockdown serve perché, nella misura in cui finisce, l'Europa rischia di implodere. Cioè, lo stanno tenendo, diciamo, lo stanno prolungando, perché non hanno ancora una strategia d'uscita, e questo tiene tutte le bocce ferme. Ecco, questa è una sintesi vera, secondo te? Sì. E quindi imploderà l'Europa dopo il lockdown? Ci sono possibilità che accada? Allora, bisogna vedere quello che succede in Germania. Ma non lo escludi, comunque, tu? Allora, io spesso confondo le aspettative con le speranze. Mi sembra l'esito più logico. Però, allora, si ritorna... Tu dici, se vince la CDU, può saltare. Se vincono i verdi, lì, tiene ancora. Allora, se vince la CDU, si creano le precondizioni per cui tutto salti. Ecco. Ma non perché loro vogliono far saltare la roba, eh. Non è che... Ma perché non si troverà una sintesi, diciamo. Non è che la CDU vuole far saltare. La CDU dice, noi si comanda noi e l'Europa è fare quello che si vuole noi. E non è che noi ci ribelliamo. È che ne rimaniamo sotto e nel crollare, crolla tutto. Quindi, in un certo senso, paradossalmente, ripeto, il nostro migliore alleato è la CDU. Ecco. Che, a differenza dell'AFD, perché mentre l'AFD dice, andiamo a governare per rompere l'Europa, la CDU dice, no, andiamo a governare per fare quello che ci fare a noi. Cioè, quello che hanno fatto sempre. L'Europa. Ecco. Però, loro non è che vogliono rompere. No, dice, se devo fare lo schiavo a vita, a noi ci va bene. Beh, poi sai, c'è anche chi si innamora del ruolo dello schiavo. E noi italiani, in questi vent'anni, anche di più, abbiamo dato prova di saperci innamorare dei carcerieri. Grazie, Fabio Dragoni. Grazie a voi. Bene, cari amici di Visione TV, si conclude qui questo nostro nuovo approfondimento. Vi ricordo che Visione TV ha bisogno di voi, del vostro aiuto e sostegno economico. Questi sono i dati per consentirci di proseguire nel nostro desiderio di continuare ad informarvi correttamente, non secondo schemi prestabiliti. Potete aiutarci tramite Bonifico, tramite Paypal. Visitate il nostro sito www.visionetv.it Se vi va, abbonatevi, sempre lì, oppure, insomma, riconosceteci un sostegno, una tantum. Grazie ancora, alla prossima. Grazie. 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 Grazie a tutti.